Innanzitutto Transform, Laboratorio Sud e Left che hanno lavorato perché riuscisse questa riunione che ha alle spalle appunto un lavoro, appunto un laboratorio, un cantiere. Ringrazio Loredana Marino e Roberto Musacchio per le introduzioni. Insomma, io sono abituato a pensare, dopo tanti anni, che una riunione è utile quando si impara qualcosa. Io stasera ho imparato molto, quindi mi sembra che sia una buona riunione. Siamo ad un passaggio storico, appunto dicevano le introduzioni. Esplosivo, folle, come lo chiama Paolo Favilli. Come sempre, in simili tornanti, il mezzogiorno è metafora. Questo è un esempio, il primo punto fondamentale. È una metafora. Ricorda ad esempio, ricordava pure Mario Brunetti molto bene poco fa, ricorda ad esempio il Gramsci del 1920, che attua il primo rovesciamento di campo. Il Sud scrisse, non si pone soltanto come un problema di rapporti di classe, e vi era questa discussione nel movimento comunista, ma anche e specialmente come un problema territoriale, cioè come una questione nazionale. Quindi parlare di Sud, credo, anche oggi, in un passaggio appunto di fase, che è stato ben indagato dagli altri interventi, parlare di Sud oggi quindi significa indagare, ricercare, elaborare un punto di vista. Ecco, io credo che da qui dobbiamo ripartire con molta umiltà dopo le rimozioni del passato. Nella folle esplosione del mondo, dentro la crisi delle magnifiche sorti e progressive della globalizzazione liberal-liberista, il Sud oggi è scosso, abbiamo detto più volte in questi mesi, dalla domanda di una identità smarrita. Dentro e contro il Sud, infatti, si stanno ricostruendo le catene del valore dell'Europa eroatlantica e delle tante Europee. Esiste l'Europa vittoria europea, in parte ancora, esistono le Europee baltiche, che si vanno rafforzando, con un monopolio totalizzante delle risorse e delle oligarchie politiche. E contro il Sud si costruisce anche un assetto istituzionale, oggi ne abbiamo parlato poco, ma è importantissimo, un assetto istituzionale ordo-liberista del progetto di autonomia differenziata, appunto la secessione dei ricchi, che a fondo cambierà il Sud. Perché i nuovi processi, vedete, di valorizzazione del capitale, non ammettono, non ammettono democrazia, autorganizzazione, autogestione, come non ammettono i diritti e le risorse dei popoli. Siamo, abbiamo detto mille volte, anche ieri sera, nella riunione con le compagnie e i compagni kurdi, siamo tutte e tutti kurdi, siamo tutte e tutti Ceuta e Meliglia, siamo tutte e tutti nel cuore del Mediterraneo, con il cuore e con la testa siamo tutti palestinesi. Insomma, a me pare che il passaggio d'epoca ci imponga di andare oltre la questione meridionale, di inoltrarci nella questione mediterranea, dove il Sud d'Italia può diventare l'asse portante non solo di aree di solidarietà, come è ovvio, ma di nuovi assetti socio-economici e perfino produttivi. Io credo che è il secondo punto, il secondo tema che volevo discutere con voi, credo che questo sia fondamentale, riprendere il tema della produzione alternativa. Forse dovremmo ricominciare ad osare, ad assardare una prospettiva, un processo di medio e lungo periodo. Io la chiamo un'idea di deglobalizzazione, uno sganciamento, cito volutamente il termine così caro a Samir Amin, che ci renda non più vassalli, anche psicologicamente, di un'Europa ormai nato, ultramilitarizzata, come ci spiegava benissimo Antonio Mazzeo e poi Nicotra, che qui da noi però, e questo è il nostro avversario principale, piace tanto, permettetemi di dirlo, a Mattarella, io lo nomino perché nessuno mai nomina ci è fondamentalmente il centro dell'Atlantico, bisogna avere il coraggio di farlo. A me mi hanno appunto sospeso Facebook per trenta giorni, mi sosperranno per altri trenta giorni, non me ne frega niente, ma bisogna incominciare a dire la verità. Se diciamo c'è un buon uomo lì e poi Draghi è cattivo, no, c'è un euro, colui che ha avuto il mandato a livello dell'Atlantico, insieme a Draghi, insieme a Letta, insieme al complesso militare industriale. Dice bene Antonio Mazzeo, l'ho scritto ultimamente anche sull'EFT, il complesso militare industriale che è in mano completamente, ci dispiace dirlo, al PD. Tutte e cinque i dirigenti sono del Partito Democratico. Queste cose qui, se vogliamo ripartire, dobbiamo dirci, dobbiamo dirci, perché lì la moneta si autorappresenta, dietro lo scudo appunto dei complessi militari industriali, è infatti un assetto rivestito di nuove forme politiche, apparentemente, imperiali, di per sé naturalmente improntato a uno sviluppo duale, paralizzante ed asimmetrico. Cioè questo tipo di sviluppo è di per sé duale. Una terza osservazione, la penultima che faccio, accanto alla nozione di modo di produzione, dobbiamo allora dare importanza alla nozione di formazione storico-sociale, sfuggendo a quell'alienazione economicista che a volte prende anche noi, a volte ha preso anche noi, anche la nuova sinistra, e che è alla base poi degli algoritmi del PNRR, del Sud come hub energetico, hub energetico però non della transizione ecologica, virtuosa, ma carbonizzato, gasificato, ultratrivellato, facciamo una trivellazione qua, una lì, e questo significa l'abbattimento anche di tutto il conflitto sociale del Sud. E allora invece noi dobbiamo riprendere, come fanno tanti compagni, i movimenti ci sono, dobbiamo riprendere a parlare di natura, di rapporto città-campagna, di rapporto campagna-industria, qui c'è Fabris che in questo mi è sempre stato maestro, non siamo per il disastro dell'accumulazione, né capitalistica e né presunta socialista, ma per la società alimentare, lo sviluppo autocentrato, abbiamo delle parole d'ordine che fanno parte del nostro patrimonio, lo sviluppo autocentrato, lo diceva bene Nicola prima, il confederalismo democratico di Oshalam, splendidi libri, il nuovo Gramsci kurdo, la democrazia partecipativa del Rojava, per noi non sono solo orpelli ornamentali, lo so che ne parliamo spesso, ma stanno diventando orpelli ornamentali, invece debbano essere strutturali, sistemici, basi di conflitto sociale, realtà di popoli in movimento, di una nuova sinistra che parla del mezzogiorno, perché parla di confederalismo democratico, la nostra identità sta nella nostra storia, penso anche soltanto, permettetemi quest'ultimo punto, penso anche solo al rinascimento, al rapporto strettissimo fra meridionali ed africani, oggi completamente rimosso, facciamolo nostro, parliamo della storia, non siamo sudditi o persone che attendono l'assistenza o le briciole che scendono dal capitale che si ristruttura, vi sono state forme altissime di interculturalità che esistono fra realtà e rappresentazione, Gianfranco Salvatore, un importante docente dell'Università del Salento, ci ricorda nell'ultimo splendido libro L'immaginario popolare che ancora oggi porta alle rivendicazioni artistiche, che parlano anche ai giovani del sud, di contrapposizione al neoborbonismo dei libri di aprile, lo dico apertamente, lo nomino, di essere neri a metà o discendenti di Annibale, da parte di artisti e musicisti come Pino Daniele, Raiz, Enzo Abitabile, quindi c'è questa cultura in cui noi dobbiamo, di cui noi dobbiamo ricercare di fare tendenza, egemonia, nell'agricoltura, nell'artigianato, che è questa interculturalità sistemica, nell'allevamento ed ammaestramento degli animali, nell'insegnarsi a nuotare e a immergersi nel mare, nel Rinascimento i napoletani, non sapevano nuotare e immergersi nel mare, ce l'hanno insegnato gli africani, ecco rispettiamo, riprendiamo la nostra storia, mescoliamo, mescoliamo le culture con sorprendenti corrispondenze, ecco qui siamo, chiudo, qui siamo, da qui ripartiamo io credo, per non parlare del sud solo in termini assistenzialisti, mutualisti, che pure sarebbe importante, di sgocciolamento delle briciole di un capitale che si ristruttura, si pensi alla crisi demografica, che come scrive Prosperi, ha rovesciato di botto un carattere secolare del popolo contadino italiano, la grande quantità di figli, e si pensi alla scomparsa della politica, che noi abbiamo conosciuto invece come grande passione civile, ecco io credo che da laboratori come questi, dall'umiltà che deve contraddistinguere la nostra ricerca, e da un'assemblea come quella che inizieremo domani, che faremo poi il nuovo luglio a Roma, possa rinascere anche un grumo di nuova soggettività politica, a patto che sia meridionalista, in direzione necessaria sì, ma sempre ostinata e contraria.